Professore Di Freddi, Gottlob Frege è considerato da qualcuno il vero padre della logica matematica. Secondo altri segna un vero e proprio mutamento di paradigma nella storia della logica. Vediamo di delineare la figura di Frege e capire perché è così importante per la logica moderna. La logica moderna è arrivata con Bull a una formulazione matematica, algebrica. Abbiamo parlato la scorsa volta delle algebre di Bull. Abbiamo detto che Bull è stato l'iniziatore della logica matematica e lo dimostra per l'appunto anche il titolo della sua prima opera, l'analisi matematica della logica. Però Frege è quello che in genere viene considerato il vero padre della logica. Come mai? Naturalmente l'algebra di Bull, come abbiamo credo abbastanza dettagliatamente spiegato, l'algebra di Bull è semplicemente una riformulazione matematica di quello che era la logica greca, sia la logica proposizionale degli stoici che la logica sillogistica di Aristotele. Però riformulare naturalmente non significa innovare. Frege ha trovato semplicemente, o meglio non così semplicemente, ma ha trovato profondamente un'analogia matematica, un modo di esprimere matematicamente ciò che i greci avevano fatto. Però non è andato oltre i greci. Anzi, sembrava quasi dare ragione a quella famosa affermazione di Kant nella critica della ragion pura che la logica era arrivata al suo vertice, alla sua massima perfezione con i greci, in particolare con Aristotele, e di lì non c'era più mossa. Le innovazioni di Bull sono innovazioni tecniche. Si tratta semplicemente di tradurre qualche cosa che già c'era in un linguaggio naturalmente molto più adeguato e quindi molto più prolifico, perché permette ulteriori applicazioni, ma certamente non nuovo per quanto riguarda i risultati intrinseci della logica. Ebbene, Frege ha naturalmente smentito profondamente questa affermazione di Kant ed è per questo che Frege viene considerato il vero padre della logica. E cosa ha fatto effettivamente? Beh, in realtà non solo lui, ovviamente, perché come abbiamo già detto più di una volta nella matematica, nella logica, nelle scienze, i grandi cambiamenti non sono mai il segno soltanto di un unicamente, il risultato di un unico pensiero, ma arrivano da tante parti. Coloro che lavoravano nel periodo in cui lavorava Frege, cioè intorno agli anni 1880 circa, ebbene, questi personaggi che corrispondono ai nomi di Schröder, per esempio di Peirce, di De Morgan e in particolare soprattutto appunto di Gottlob Frege, hanno introdotto la novità essenziale, quello che caratterizza, quello che distingue la logica moderna dalla logica antica. Questa caratteristica nuova è lo studio delle relazioni. Cioè si scoprì dopo circa 2000 anni, 2200 anni, che in realtà Aristotele aveva fatto un'enorme dimenticanza. Nella sua analisi delle proposizioni, nella sua analisi della struttura delle proposizioni del linguaggio, Aristotele si era concentrato praticamente su le proposizioni atomiche del tipo soggetto predicato. Cioè c'era un soggetto, un verbo, e si era dimenticato naturalmente di quelle più complicate che si chiamano soggetto, verbo, complemento. Cioè in altre parole Aristotele aveva, tra l'altro in maniera espressa, esplicita, dichiarato che le uniche proposizioni di cui doveva trattare la logica erano quelle per l'appunto con un unico soggetto, o se vogliamo dire senza complementi. Ebbene invece i moderni capirono che bisognava introdurre uno studio delle relazioni. Come mai c'è bisogno di considerare strutture più complicate? Beh, questo deriva precisamente dalla terza via della logica in particolare e della logica matematica in generale, che è la via per l'appunto matematica. I matematici hanno bisogno quotidianamente di relazioni a due o più soggetti. Per esempio dire che due numeri sono uguali fra di loro o che sono diversi fra di loro, beh quella è una relazione con due argomenti, perché per l'appunto si può dire soltanto di due cose che sono diverse per esempio fra di loro. Dire che la somma di due numeri è uguale a un terzo numero, beh questa addirittura è una relazione a tre soggetti. Ci sono i due numeri di cui si sta parlando e poi c'è il terzo soggetto che è il risultato. Dire per esempio che due più tre è uguale a cinque è una relazione che mette in comunicazione per l'appunto in relazione fra di loro i numeri due, tre e cinque, cioè dice che il terzo numero è la somma dei primi due. Naturalmente non c'è soltanto la somma, c'è la moltiplicazione, la divisione, ce ne sono, si può dire, infinite di operazioni di questo genere. Un'altra relazione a due argomenti molto importanti in matematica è la relazione di maggiore oppure minore, cioè dire che un numero è maggiore di un altro. Quindi vediamo che non appena ci si pensa un momento, si pensa naturalmente in termini matematici, si arriva immediatamente a questa conclusione che se si vuole effettivamente sviluppare uno studio sistematico del ragionamento matematico e ricorderete che quando abbiamo parlato abbiamo definito la logica matematica, abbiamo detto che l'aggettivo matematico andava inteso in due sensi, il primo senso era il fatto che lo studio era uno studio di tipo matematico e questo effettivamente Boole lo fece perché introdusse le algeve di Boole che sono una rappresentazione matematica per esempio della logica proposizionale o della logica silogistica. Ma l'aggettivo matematico in logica matematica poteva voler dire una seconda cosa, cioè uno studio del ragionamento matematico. Ed ecco che allora se uno vuole fare effettivamente uno studio del ragionamento matematico e uno studio del ragionamento non elementare perché ovviamente ci si può limitare, ci si può legare le mani in qualche modo, ma se si vuole studiare effettivamente quello che i matematici usano quotidianamente allora le relazioni sono qualche cosa di imprescindibile. E allora forse potremmo dire, per cercare di essere ecumenici in qualche modo, potremmo dire che Boole è stato il padre dello studio matematico della logica e invece Frege e i suoi contemporanei sono stati i padri dello studio del ragionamento matematico. E allora in questo modo si riesce a capire che poiché il matematico significava due cose diverse, ovviamente queste due cose diverse sono state portate a termine o iniziate meglio da Boole e da Frege. Come avviene il passaggio da una logica dei predicati, che è riconducibile a quella tradizionale di Aristotele, alla logica delle relazioni elaborata da Frege? Frege fu per l'appunto il primo che, e per questo viene considerato il padre in questo senso della logica, fu il primo che capì la necessità di sviluppare una teoria sistematica delle relazioni, quindi non soltanto il calcolo o la logica dei predicati, ma il calcolo o la logica delle relazioni. Oggi si parla semplicemente di logica dei predicati o logica predicativa e forse questo crea confusione, perché nel senso greco i predicati sono quelli ai quali mi sono riferito prima di cui parlava in realtà Aristotele, cioè in cui c'è soltanto un soggetto, un argomento, come diremmo in termini più matematici oggi. Ebbene, il fatto che oggi si parli di logica predicativa o dei predicati sta ad indicare semplicemente che oggi i predicati vengono considerati in una maniera più estesa, più generale, più ampia di quella che considerava, che usava Aristotele, cioè non soltanto un soggetto ma un numero qualunque. Notate un numero qualunque perché non ci si può limitare a tre, come nel caso degli esempi che abbiamo fatto, il fatto che due numeri abbiano una somma uguale ad un terzo, perché nel momento in cui poi ci si pensa si possono fare relazioni di complicazione arbitraria e quindi c'è la necessità di poter considerare predicati di qualunque numero di argomenti. Questo è precisamente quello che fece Freire. Sembra facile da dire, naturalmente è molto complicato da fare, perché si può dire anche dove sta la complicazione. La complicazione sta in questo fatto. Se consideriamo per esempio il sillogismo, nel momento in cui c'è un unico soggetto, allora è chiaro che dire tutti qualcuno nessuno si può riferire soltanto a quell'unico soggetto, cioè i quantificatori che già Aristotele aveva introdotto per l'appunto nella teoria del sillogismo, questi quantificatori possono essere usati ma soltanto in maniera indipendente uno dall'altro. Nel momento in cui invece si usano delle affermazioni, delle proposizioni, dei predicati in cui i soggetti possono essere più di uno, allora si possono in qualche modo alternare questi quantificatori. Si può dire per ogni oggetto di un certo genere ce n'è un altro di un altro genere, per esempio ogni uomo ha un amore, per esempio. E ovviamente è difficile poter capire quali sono le leggi di questi quantificatori, ma si può intuire che i quantificatori non si possono in genere scambiare fra di loro. Per esempio dire per ogni uomo c'è una donna che lo soddisfa e nelle maniere che l'ascoltatore potrà immaginare e che più gli si confanno, è una cosa diversa dal dire che c'è una donna che soddisfa ogni uomo. Si può capire che dal punto di vista morale la differenza è essenziale. Ed ecco allora si capisce che questo crea una complicazione enorme, perché mentre i quantificatori isolati si possono bene o male maneggiare nello stesso modo in cui si maneggiavano i connettivi, e questo è il vero contenuto dei risultati di Boole, cioè il fatto che la logica sielogistica non è poi sostanzialmente più complicata, anzi ha la stessa struttura di quella proposizionale, nel momento in cui ci sono predicati a più soggetti con più argomenti, ecco che questa possibilità di alternare i quantificatori fra di loro crea una complessità enorme. Anzi, il salto di complessità è talmente grande che mentre esiste un calcolo effettivo che può dirci quali sono le formule vere o false, valide oppure no, della logica proposizionale o della logica sielogistica, non c'è un calcolo che ci possa dire la stessa cosa nel campo della logica predicativa. Non c'è, non perché non è stato trovato, ma perché, quando parleremo di Turing poi ne parleremo più diffusamente, è stato dimostrato che non ci può essere. Cioè effettivamente il passaggio dai predicati a un soggetto solo, ai predicati a più soggetti, a più argomenti, è un passaggio che crea una complicazione che non si può più in realtà contenere dentro un calcolo formale. E questo è il motivo che rende la logica predicativa non solo più complicata, ma anche ovviamente più interessante, più profonda, più difficile da studiare. Ed è per questo che il fatto che Frege sia riuscito a costruirne una siomatizzazione completa, come diremmo noi oggi, e questo è stato veramente un grande risultato, un risultato epocale. Per costruire questa siomatizzazione completa della logica, Frege scrive l'ideografia. Può dirci perché quest'opera è così importante? La prima grande opera di Frege, in realtà perché lui ne scrisse altre, delle quali parleremo in seguito, è appunto quella del 1879, l'ideografia, che ha un sottotitolo molto importante, un linguaggio in formule del pensiero puro. Vedete come il sogno di Leibniz in realtà era ben presente nella mente di coloro che poi l'hanno realizzato, in particolare nella mente di Frege, cioè Frege introduce in questo libro, che poi è un libretto tra l'altro di un centinaio di pagine, che si può cercare di trovare anche nelle librerie, oggi è stato ristampato più volte anche in traduzione, ebbene dicevo, in questo libretto Frege propone quella che lui chiama una ideografia, cioè un linguaggio in segni, un tentativo di rendere attraverso formule, e questo già dice appunto che deve essere qualche cosa di matematico, il pensiero puro. E allora gli ingredienti del sogno di Leibniz sono tutti presenti, quando si dice linguaggio in formule si dice per l'appunto qualche cosa che ha un connotato matematico, e quando si dice del pensiero puro si dice per l'appunto che si cerca di tradurre le leggi del ragionamento in maniera matematica. Frege propose un sistema, un sistema assiomatico che naturalmente comprende come parte la logica proposizionale che avevano sviluppato gli stoici, comprende come parte la logica sillogistica che aveva sviluppato Aristotele, la comprende perché nel caso che si considerano predicati con un solo argomento, una sola variabile, un solo soggetto, questo è quello che si ottiene, però ovviamente la estende, questa logica aristotelica, in maniera essenziale, e Frege isolò quali sono le regole principali, anzi le regole fondamentali dei connettivi, e questi già si conoscevano appunto dagli stoici, e soprattutto le regole dei quantificatori. Costituì, enunciò, un certo numero di assiomi, un sistema assiomatico, e la cosa interessante è che lui ovviamente non lo dimostrò, ma siamo nel 1879, una cinquantina d'anni dopo, 51 anni dopo, nel 1930, Gödel dimostrerà che il sistema di assiomi di Frege permette di derivare tutte e sole le formule che sono valide. Cosa significa valide? Beh, questo, chi ricorda la nostra conversazione su Leibniz, si ricorderà per l'appunto che la validità logica era definita come verità in tutti i mondi possibili. E allora, ecco che in realtà stanno venendo in qualche modo al pettine tutti i nodi, e si stanno però comunque in ogni caso pettinando, non si sta facendo questa parrucca della logica, ecco che allora le verità logiche sono definite come verità in tutti i mondi possibili, Frege isola un certo numero di assiomi e Gödel dimostra che tutte e sole le verità logiche sono quelle che derivano dagli assiomi di Frege usando le regole di deduzione che Frege stesso aveva introdotto. Cioè, in altre parole, Frege è riuscito a fare un'analisi completa di quello che è la logica dei predicati. Logica dei predicati però non nel senso aristotelico ristretto di predicati a un solo soggetto, ma nel senso esteso, moderno, di predicati a un numero qualunque di soggetti. Quindi questo è veramente uno dei grandi risultati della logica moderna, essere riuscito senza avere tra l'altro una precisa nozione di completezza, perché questa la introdurrà soltanto Gödel, essere riusciti a isolare tutto ciò che serviva e praticamente quindi a descrivere in maniera implicita ovviamente tutte le verità logiche. Dopo l'ideografia, Frege pubblica nel 1884 i fondamenti dell'aritmetica, opera nella quale espone le sue concezioni riguardo all'aritmetica e alla fondazione del concetto di numero. In quest'opera si trova una nuova fondazione della matematica e dunque un nuovo paradigma rispetto a quello pitagorico e deoclideo. In che senso? Dopo aver detto che Frege riuscì in questa grande impresa di isolare gli assiomi della logica e del pensiero puro, appunto di costruire questa sua ideografia, quindi realizzare in parte il sogno leibniziano, ecco che come sempre succede le persone forse si montano la testa, cioè arrivano quelli che potremmo chiamare i deliri di potenza e allora Frege passa ad un passo successivo, cioè decide che la logica può essere considerata come il vero fondamento della matematica. In che senso? Bisogna fare un passo indietro per cercare di capirci e come abbiamo già fatto spesse volte nel passato, fare un passo indietro per noi significa risalire a Pitagora, ovviamente. Ricordatevi che Pitagora è stato il primo che ha presentato, ha proposto un vero sistema di fondazione, di fondamento della matematica. Ricorderete il motto pitagorico tutto è numero, che nel caso suo appunto significava tutto è numero intero oppure tutto è numero razionale. Ebbene, naturalmente questi fondamenti della matematica pitagorici andarono in crisi immediatamente con la scoperta degli irrazionali. E allora quello che successe fu che Euclide propose fondamenti per la matematica di natura diversa. Cioè i greci decisero che era meglio non preoccuparsi più dell'aritmetica o meglio farlo soltanto in maniera nascosta e di costruire tutta la matematica basata semplicemente sulla geometria. E infatti gli elementi di Euclide sono un trattato di geometria. Si potrà pensare che facendo soltanto la geometria ovviamente si fa soltanto una parte della matematica. Ma questo non significa fare fondamenti. Costituire la matematica, costruirla sulla geometria significa riuscire a fare anche l'aritmetica in maniera geometrica. Può sembrare una cosa perversa ma questo era diventato necessario proprio grazie alla crisi dei fondamenti che era stata provocata dalla scoperta degli irrazionali. Come faceva Euclide a fare l'aritmetica in maniera geometrica non è poi così difficile a pensarci bene. Per esempio vogliamo fare la somma di due numeri, per esempio di 2 più 3. Beh se non abbiamo i numeri e abbiamo soltanto enti geometrici possiamo pensare di prendere due segmenti che hanno uno lunghezza 2 e l'altro lunghezza 3. Cosa significa questo? Beh bisogna fissare un'unità di misura e naturalmente avere lunghezza 2 significa che l'unità di misura sta due volte e avere lunghezza 3 significa che l'unità di misura sta tre volte. Come si fa a fare la somma appunto di 2 e 3? Si prende un segmento di lunghezza 2, un segmento di lunghezza 3 lo si mette sulla stessa retta e si costituisce un segmento di lunghezza 5. Cioè le somme vengono ridotte in questo modo, le somme aritmetiche vengono ridotte a un'operazione geometrica di incollatura, incollamento di due segmenti diversi. Bene questo è il primo passo ovviamente. I prodotti come si fanno? Per esempio invece di fare somma di 2 e 3 come si fa a fare il prodotto di 2 per 3? Questo è un po' più complicato perché allora si tratta di prendere il segmento di lunghezza 2 e il segmento di lunghezza 3, costruire un rettangolo che abbia quei due segmenti come lati e poi poiché l'area del rettangolo di lati 2, 3 e 6 appunto l'area è il prodotto, allora si dirà il prodotto di due numeri è l'area di un rettangolo. Se però i numeri invece di essere due sono tre, se per esempio vogliamo fare 2 per 3 per 5, allora dobbiamo prendere un rettangolo naturalmente e poi aggiungere una terza dimensione che corrisponde al terzo numero, cioè prendere un parallelepipedo e naturalmente quello che corrisponde al prodotto dei tre numeri questa volta sarà il volume del parallelepipedo. Quindi diventa strana questa fondazione della matematica perché un prodotto di due numeri è diverso, è una cosa diversa, un oggetto diverso da un prodotto di tre numeri, in un caso si ha un'area e in un altro caso si ha un volume. Se poi volessimo fare, perché a volte ci può servire un prodotto di quattro numeri e lì saremmo in difficoltà perché dove la mettiamo la quarta dimensione? Oggi sappiamo tutti che il mondo è più complicato di quello che ci si poteva immaginare una volta e così è anche la matematica, ma i greci certamente non si potevano immaginare una quarta dimensione, quindi i prodotti di quattro numeri era meglio non farli. Allora capite che ridurre l'aritmetica alla geometria era qualche cosa di forse possibile ma certamente macchinoso, complicato, però lo si fece e per duemila anni le cose andarono bene. Quando e su quale base avviene una nuova fondazione della matematica dopo quella pitagodica ed euclidea? Nel 1637 Cartesio introdusse un nuovo cambiamento di paradigme, cioè in realtà i fondamenti della matematica cambiarono di nuovo, non furono più geometrici, ovviamente non potevano essere più aritmetici perché quelli davano problemi con gli irrazionali, Cartesio propose una nuova fondazione basata questa volta sui numeri reali e allora poiché i numeri reali diventavano questa volta i veri oggetti della matematica, Cartesio poteva avere un motto analogo a quello pitagorico, tutto è numero, solo che nel primo caso di Pitagora tutto era numero intero o razionale e in questo caso invece nel caso di Cartesio tutto diventava numero reale. Allora a questo punto bisognava fare quello che euclide aveva fatto con l'aritmetica, bisognava farlo per euclide, cioè bisognava ridurre all'analisi, allo studio di numeri reali la geometria. Come si fece questo? Beh Cartesio introdusse quello che per l'appunto viene oggi chiamato la geometria cartesiana, cioè si introducono due assi cartesiani, i punti vengono identificati attraverso le loro coordinate, cosa che tutti possono capire, basta andare a New York per esempio e le strade e le avenues ovviamente non sono messe esattamente come assi cartesiani, sapere il numero della strada e il numero della avenue identifica esattamente l'edificio perché basta andare a cercare la strada e poi la avenue o viceversa e si trova il punto. Quindi secondo Cartesio un punto che era un oggetto geometrico diventa un oggetto aritmetico però in un senso esteso, cioè diventa una coppia di numeri, coppia di numeri reali. E che cos'è una retta però? Beh questo diventa più complicato perché una retta che cosa significa? Allora Cartesio però è questa la vera essenza, il vero motivo per cui lui introdusse la sua geometria cartesiana, per Cartesio una retta era l'insieme delle soluzioni di un'equazione lineare, cioè quello che si fa quando si studia a scuola la geometria cartesiana, il fatto che a certe equazioni che sono quindi di natura algebrica corrispondono in realtà degli enti geometrici, per esempio un cerchio è un'equazione quadratica, più in generale le coni che sono equazioni quadratiche e così via. Quindi Cartesio riformulò la matematica in termini di analisi, questo perché lo fece? Lo fece perché scoprì che era molto più facile risolvere problemi di geometria cercando di tradurli nell'algebra e poi calcolando lo stesso problema poi di Boole, ovviamente, che non cercare di pensare in termini geometrici. Con Frege abbiamo un quarto paradigma di fondazione della matematica, dopo quello aritmetico di Pitagora, geometrico di Euclide e quello cartesiano fondato sui numeri reali. In cosa consiste la novità introdotta da Frege? Nell'ottocento si cominciò a capire che forse i numeri reali si potevano ridurre ai numeri interi, cioè in altre parole si cercava di chiudere il cerchio, cioè persone come Cantor, Dedekind, eccetera, grandi matematici dell'ottocento scoprirono che in realtà i numeri reali potevano essere definiti usando però un'infinità di numeri interi e questo lo sappiamo anche noi, i numeri reali, per esempio chiunque di noi ha in mente un numero reale tipo pi greco, sappiamo tutti che, o meglio, tutti dicono pi greco uguale a 3,14 ma questo se fosse vero che pi greco uguale a 3,14 sarebbe un numero razionale e invece no, 3,14 è soltanto l'inizio di una successione infinita di cifre che non si ripetono mai in maniera periodica proprio perché pi greco non è un numero razionale. Allora l'idea di Dedekind e di Cantor fu che è vero tutto è numero intero, purché, e quindi si ritorna a Pitagora, purché però si considerano non soltanto numeri interi nella loro individualità, nella loro singolarità, ma come insiemi ed interviene qui e arriva per la prima volta questa parola che poi in realtà sarà così importante nella matematica contemporanea e nello studio dei fondamenti, cioè la nozione di insieme, alla quale Frege si dedicherà nella sua ultima opera. Prima però, arrivato alla fine di questo chiusura di cerchio, cioè nel momento in cui la matematica moderna dell'Ottocento viene tutta ridotta alla nozione di numero intero, più la teoria degli insiemi ovviamente, allora Frege decide che forse se si riuscisse a definire la nozione di numero intero in maniera logica, allora tutta la matematica che già di per sé era stata ridotta all'aritmetica sarebbe stata ridotta alla logica. Questo è un programma enorme, un programma ancora più ambizioso di quello di Leibniz, che credeva per l'appunto Leibniz che si potesse trovare un linguaggio logico in cui tradurre tutte le scienze, in particolare la matematica, ma Frege va oltre, Frege cerca di definire la matematica in maniera logica e quindi di far vedere che la matematica è soltanto una piccola parte della logica. La logica è in realtà il vero oggetto dello studio del pensiero e la matematica ne è una parte. E allora quello che Frege fece per l'appunto nella sua seconda opera, i fondamenti dell'aritmetica, fu di tentare di definire in maniera logica i numeri. La definizione di Frege ebbe successo per un qualche anno e poi si scoprì però, questo ne parleremo naturalmente più diffusamente in seguito, si scoprì negli anni 30, nel 31 in particolare, sempre il solito Kurt Gödel che avrete incominciato a capire che effettivamente è in realtà il vero grande logico della contemporaneità, ebbene Gödel dimostrò che in realtà questo tentativo, questo sogno di Frege, appunto un sogno ancora più grandioso di quello di Leibniz, era destinato al fallimento. Ma di questo, cioè il fallimento del sogno di Frege, parleremo naturalmente in seguito e credo che dovremo tornare in una successiva conversazione anche a cercare di precisare un po' meglio in che cosa consista il tentativo di realizzazione di questo sogno, di traduzione della matematica nella logica. Ma per ora forse possiamo...